Benvenuti, ben ritrovati, buon fine settimana, oggi Res Pubblica Sicilia Chiama Europa, due ospiti in studio, due rappresentanti della politica provinciale, in particolare il coordinatore provinciale del Movimento Via Angelo Rocca, grazie ad Angelo Rocca per essere qui con noi e poi c'è il pezzo forte, non me ne voglia Rocca, che è il sanatore Nino Papania, sanatore grazie ancora una volta per essere qui con noi, lo vedete inquadrato. Beh, Movimento Via che in questi giorni sta facendo davvero camminare un po' con la politica dalle parti dell'Ericino, certamente concentriamoci in questa prima parte sull'Ericino, siamo ormai a ridosso delle elezioni, domenica mattina qualche giorno fa c'è stata la presentazione alla stampa del candidato sindaco sostenuto fortemente dal Movimento Via, cioè l'avvocato Piero Spina, la mia sensazione è che avete forse involontariamente, anzi conoscendovi un po', sicuramente involontariamente dato da pensare agli avversari, perché alla conferenza stampa c'erano quasi 200 persone che non so se erano state evitate, ma non credo da quello che ho sentito, perché l'ho chiesto proprio, ma vi hanno chiesto di venire, no, siamo venuti per ascoltare il candidato sindaco, è un buon inizio mi pare, no senatore? Credo intanto che sia merito del candidato sindaco, immagino che la sua candidatura appaia gradita, c'è un certo entusiasmo, tante persone che si sono avvicinate, il compito del Movimento Via è quello di sostenere Spina, di cercare di fare in modo che il suo messaggio possa arrivare agli elettori e di fare in modo anche come è ovvio e come è giusto che tutte le nostre forze siano messe a disposizione in una competizione elettorale che speriamo serena, di alternativa, di progetti per la città e che possano convincere gli elettori che è possibile avere un sindaco che faccia il sindaco. Bene, questo mi pare già una buona risposta. Via che si presenta con una propria lista, le discrezioni dicono che avete messo lo zampino anche nelle altre, ma concentriamoci intanto sulla lista che porta il nome del Movimento. Me la danno come fortissima, ci sono due consiglieri uscenti, la consigliera Mannina, il consigliere Strongone e diversi altri rappresentanti della società civile, vecchi e nuovi voti del vivere in società in questa lista. Come è stata costruita? È stata costruita intanto partendo, come giustamente diceva lei direttore, dal fatto che ci siano due candidati già uscenti, come consiglieri uscenti che si sono candidati e da lì siamo partiti, nel senso che loro stessi hanno con molto impegno cercato altre persone da candidare, l'hanno fatto come giustamente diceva tra la società civile e tra tutti quelli che comunque volevano dare un segnale di discontinuità con l'amministrazione attuale. È venuta fuori una bella lista, bisogna essere obiettivi, partendo proprio dai due punti fondamentali che sono Simona Mannina e Eugenio Strongone che in sostanza sono state parte della vera opposizione in questi cinque anni di amministrazione toscana. Tra l'altro parlando di opposizione, proprio un buon pezzo dell'opposizione alla Toscana si ritrova a sostegno di Pierospino, c'è pure la lista Cives che annovera un altro consigliere comunale, è un altro segnale politico questo qua che viene dato, come lo posso interpretare, come è un segno di cambiamento, una voglia di cambiamento? Noi speriamo della voglia di cambiamento, poi questo lo dicono gli elettori, le liste sono forti o deboli a secondo del giudizio che daranno gli elettori, non è la nostra opinione quello che influisce e determina le condizioni della politica. È ovvio che a Erice, così come avviene altrove, Erice non è l'unico comune del mondo, è necessario che l'offerta politica sia variegata, sia chiara, sia responsabile e sappia indicare agli elettori la diversità degli atteggiamenti, dei comportamenti e dei progetti. Credo che in questo stiamo riuscendo, l'altra cosa nella quale vorremmo riuscire è creare toni del confronto politico che siano chiari e sereni, lucidi nella loro espressione e che questo possa servire ai cittadini per poter fare le loro scelte in assoluta consapevolezza. Spesso la consapevolezza manca durante le competizioni elettorali perché si bada di più alle capacità di leadership, al modo che si ha di comunicare e invece credo che bisogna riempire la politica di contenuti. A proposito di contenuti, 5 liste potevano essere di più se il cantiere non si fosse sfaldato obiettivamente, il cantiere è resiliente. Noi abbiamo lavorato perché il cantiere resiliente fosse unito, fosse coeso e puntasse a una candidatura comune. Non è stato possibile un poco per le ambizioni personali dei candidati, questo è legittimo che non riguarda una parte o l'altra, riguarda anche noi evidentemente. Un altro motivo evidente è quello che si è guardato in proiezione anche magari sbagliando alle elezioni regionali, a quello che avviene dopo, alla collocazione nelle liste. Una realtà civica è soprattutto una realtà civica e bisognava fermarsi, a mio giudizio, alla prima fase e scegliere la candidatura che più delle altre potesse competere col candidato sindaco uscente, che secondo me è un candidato sindaco robusto, in grado di ottenere consenso elettorale e rispetto al quale bisognava atteggiarsi con una forza compatta. È andata così, speriamo che andando così si riesca a ottenere comunque un risultato. È chiaro che il candidato sindaco deve puntare a vincere e a vincere a primo turno, però è altrettanto chiaro che la varietà delle forze in campo consente al cittadino di poter esaminare un'offerta politica più ampia e più vasta e perciò più ragionevole. Beh, parlando di strategie numeriche, quattro candidati a sindaco agli avversari della Toscana danno più sicurezza o no? Ma non credo. Penso che ognuno faccia conto delle proprie forze, della propria capacità di pervasività all'interno del contesto sociale dove vive. Penso che in questo momento l'aggregazione della Toscana, o di Toscana e Tranchida, o di Toscana e Tranchida e Turano, questo lo vedremo strada facendo, sia concentrata sul rafferzamento delle proprie liste, sulla propria proposta politica, sull'esame di qualche loro, e giustamente dal loro punto di vista ritengono di poter esporre come risultati positivi dell'amministrazione uscente. Il compito degli altri è non tanto dire che non hanno fatto bene, quanto dire che si può fare meglio. Cosa ci insegna l'esperienza di Alcamo, coordinatore Rocca? L'esperienza di Alcamo ci insegna certamente a portare avanti il lavoro ognuno per la sua parte con molta serietà intanto. E poi, secondo me, non bisogna ripetere alcuni errori che sono stati fatti e che tendenzialmente hanno portato, non dico ad una sconfitta, perché comunque ad Alcamo abbiamo ottenuto un ottimissimo risultato, però credo che su Erice, da come abbiamo fin ad ora, anche grazie all'aiuto del candidato sindaco, che devo dire che è una persona molto obiettiva, molto seria, molto brava anche nella comunicazione, possiamo comunque fare un passo in più e cercare il risultato in maniera molto più convincente. Questa coalizione che sostiene Spina annoverà molti giovani proprio, sia anagraficamente che giovani della politica. Come lo devo leggere questo segnale? Anche lì, collegandomi a cosa ho detto poco anzi, intanto il progetto di rinnovamento è un progetto di cambiamento proprio, di cambio di passo, di cambio anche del modo di fare campagna elettorale e di voler amministrare Erice. E poi anche lì, secondo me, anche la presenza di molti candidati, ne citavo qualcuno poco fa, e anche del candidato sindaco, che possiamo inserirlo tranquillamente tra i volti giovani della politica, penso sia stato un input per chi magari voleva metterci la faccia e provare a candidarsi e a dare una mano alle liste e al candidato sindaco. Voci di corridoio della politica dicono che comunque in caso di ballottaggio ci sarebbe già un accordo formale tra Maurizio Odde e Piero Spina, le coalizioni che li sostengono, per appoggiarsi reciprocamente. Beh, sarebbe una cosa gradita da entrambe le parti e penso anche naturale, visto che entrambe le due coalizioni pensano ad un modo diverso di amministrare Erice. No, ognuno sono in contrapposizione con quella che è l'amministrazione attuale, quindi penso che sicuramente si possa pensare ad un eventuale sostegno a vicenda nel caso di un ballottaggio. Non credo ci sia un accordo già attualmente ufficiale, però sicuramente se ne potrebbe parlare. Diciamo che è nell'ordine delle cose, obiettivamente. Sarebbe nell'ordine delle cose. È quasi una cosa naturale. Potrebbe essere, lo so. Si parla di giovani, però giustamente il senatore Papania ha già individuato in un giovane, che lui è molto giovane, Angelo Rocca, come coordinatore provinciale della creatura politica creata dal senatore Papania. Angelo Rocca, pian pianino, cresce e inizia a conoscere sempre di più il territorio della provincia di Trapani. È una grande scommessa. Facciamo finta che non è qua, dimentichiamocelo che qui presentano. È una grande scommessa che hai fatto, sanatore. La scommessa è ampia ed è, credo, anche ragionevolmente forte. C'è Angelo Rocca, c'è Ignazio Chianetta a Marsala, ci sono tutti quelli che adesso vedete candidati nelle liste a Erice, così come quelli che si sono candidati nelle liste ad Alcamo e a Marsala nelle competizioni recenti che ci sono state. È chiaro che la politica deve fare un passo avanti, deve immaginare che c'è un futuro possibile e deve investire su quei giovani, quelle persone, quell'impegno che potrebbe garantire a questa terra finalmente di avere una classe dirigente più autorevole, che mi veniva da dire quasi di nuovo autorevole. Perché non è vero che questa provincia non ha mai avuto una classe dirigente autorevole. L'ha avuta, si è confermata negli anni, tuttora ne ha una che in parte si può ancora definire autorevole, ma ha bisogno di una spinta in avanti, magari più al passo con i tempi, più al passo del passo che possiamo avere noi. E quindi da parte mia, da parte, penso, di quelle della mia generazione, ci vuole anche un gesto di generosità pensando che può venire meglio di quello che noi abbiamo saputo fare e cercando di fare in modo che tutte le caratteristiche utili per mettere a disposizione il patrimonio di esperienza, di conoscenza e di cultura che noi abbiamo possa servire ad Angelo, come a Ignazio, come a tanti altri, a fare in modo che possano veramente fare delle cose positive per le istituzioni e per questa nostra terra che ne ha tanto bisogno. Spassiamoci un po' su Palermo, senatore. Questa considerazione, questa riflessione che ha appena fatto, come la traduciamo guardando Palermo? Palermo è una situazione attualmente di confusione, anche lì dettata più dalle esigenze intrinseche delle liste, dei partiti, che non dalle esigenze della nostra terra. Sembra quasi un gioco a risico che punti a rafforzare Forza Italia, piuttosto che gli autonomisti, piuttosto che la Lega o prima l'Italia, piuttosto che diventere bellissima o fratelli d'Italia. Intanto bisognerebbe un attimo riflettere sul collegamento che la politica ha col livello nazionale politica. Siamo in un momento delicatissimo, la vicenda russo-ucraina, la vicenda del Covid, dettano problematiche gravissime, sia sul piano sociale che sul piano economico, e quindi ci vorrebbe uno sguardo più lungo e una capacità più intensa di interpretare la politica. Poi, anche relativamente all'aspetto puramente elettorale, bisognerà vedere cosa succede con la legge elettorale nazionale. Se rimane quella che c'è, sarà difficile che i partiti si schierino tutti come se si fosse in un sistema proporzionale puro e rinungino alla vittoria dei collegi con le forze più coese e più coalizzate. Non mi sembra che ci sia grande voglia di cambiare la legge elettorale, obiettivamente. E se non c'è la voglia o se non c'è la capacità e la possibilità, è chiaro che non ci sarà un sistema proporzionale puro, ma la quota dei collegi che interesseranno le forze politiche sarà ancora rilevante e pertanto la spinta alle coalizioni esisterà ancora. Ci fosse un sistema proporzionale puro è verosimile che Fratelli d'Italia potrebbe scegliere di andare da sola, fare una partita identitaria e rafforzare la propria presenza del Paese in attesa del futuro e questo comporterebbe inevitabilmente un Draghi Bis. Tutto questo se lo traduciamo in Sicilia dove si vota a turno unico e quindi con un primo turno che vedrà i candidati presidenti della Regione determinanti nello svolgersi della competizione elettorale costringerà a scegliere in tempi brevi sia i candidati sindaci delle aree metropolitane sia il candidato presidente della Regione. In questo senso è chiaro che si debbono intensificare i rapporti tra le forze politiche e le coalizioni di riferimento perché non si può più aspettare questa proposta politica, deve confrontarsi, deve emergere, deve diversificarsi e da lì poi ci sarà lo snodo delle vicende successive. Temo che fino alle comunali ci sarà ancora un periodo di transizione e dopo le comunali si determinerà il seguito. Ma nel frattempo abbiamo l'ex presidente della Regione siciliana Toto Cuffaro che inizia anche a lavorare nella provincia di Trapani, in questi giorni è stato a Trapani Catano De Luca, come lo definiamo? Autonomista, sicilianista, Catano De Luca? Ha un suo gruppo, un suo movimento che certamente sarà presente alle elezioni regionali, al momento si è autocandidato alla presidenza della Regione, è una candidatura rispettabile come le altre, non so se poi strada facendo durerà o se farà altri tipi di intese, ma comunque rispettata come una candidatura significativa. Perché uno come Catano De Luca va da solo, è da solo in un certo senso? Diciamo che ha una sua concezione poetica della politica che ha un suo significato, ha un suo appille. Evidentemente le elezioni non lontane di Messina in cui è diventato candidato sindaco andando da solo e contro tutti gli schienamenti dimostrano che c'è ancora spazio per un modello atipico rispetto al panorama politico che siamo abituati a immaginare. Cosa diversa è l'iniziativa di Toto Cuffaro che rientra nell'alveo di una politica tradizionale che lui punta a rinnovare attraverso questa ipotesi di democrazia cristiana nuova, con la quale ipotizza di poter avanzare una offerta politica che in un certo senso richiama i valori storici del partito che fu la democrazia cristiana, cioè un partito laico a confessionale di ispirazione cristiana, rinnovandolo con le presenze nuove dei vari territori. Certamente Toto Cuffaro nelle condizioni di dare il suo contributo politico di serietà e di conoscenza vedremo come si evolverà la situazione complessiva. Noi ci riteniamo naturali alleati. Faccio il suo lavoro dal 91, dal 2008 dirigo qualcosa, continuo sempre ogni volta che si vota a sentire dire, obiettivamente è così, la Sicilia è un laboratore politico che serve poi pure a decifrare meccanismi per il nazionale, ma quando lo smetteremo di essere laboratore politico e a diventare davvero identitari in questa nostra Sicilia? Ma quando lo smetteremo? Le cose non dipendono mai da quello che vuole fare uno dal soggetto, si sa, è l'evento tipico della cultura, c'è il soggetto che è quello che vuole fare le cose, c'è l'oggetto che sono le cose che vuole fare e poi ci sono le circostanze, spesso nella vita come nella politica le circostanze giocano un ruolo fondamentale nel determinare l'oggetto e nel condizionare le iniziative, le idee, le prospettive del soggetto. La Sicilia è una terra di cui ci si innamora anche per questo pirandellismo di fondo, per questa capacità del singolo e del contesto di avere un'interlocuzione diversa e variegata. Nella fase attuale, questo ulteriore laboratorio di cui si parla, e cioè questa lega che diventa in Sicilia, a partire dalla Sicilia, prima l'Italia, io immagino anche con lo zambino di Berlusconi per la verità, non credo di esercitare troppe fantasie nel fare questa affermazione. Comunque, intanto sposta il panorama politico della cosiddetta destra in un contesto diverso, perché è chiaro che l'alveo di un contenitore come prima l'Italia non può che essere un alveo più europeista. E questo dà un segnale nuovo alla politica della Sicilia e pertanto della Sicilia il laboratorio, ancora una volta, del Paese. Poi sono le circostanze, cioè i risultati successivi che ci consentiranno di capire se in effetti è un laboratorio che può approdare a una proposta politica e quindi diventare realtà e diventare identità, o seppure è un'iniziativa che non troverà sponda nel Paese. Però sono cose che fanno un po' più bella la politica, perché modificano e condizionano gli assetti complessivi. Io trovo molto interessante questo tipo di proposta politica, così come, peraltro, non viene definito un laboratorio, ma se ci pensiamo anche l'accordo e la coalizione PD 5 Stelle non è che è scritto nei libri e negli archivi. Anche lì c'è un mondo di evoluzione. Io reputo l'elettorato del Movimento 5 Stelle un elettorato più reazionario, meno identitario, meno associabile alla sinistra o alla destra. Ma la sua classe dirigente in questo momento guarda obiettivamente verso l'area progressista. E quindi sono fenomeni sociali che bisogna saperli interpretare. Se un politico è intelligente e abile, oltre che interpretati, prova anche a governarli. Potresti ritrovarti... Ti metto un po' di difficoltà, no? Dai, facciamo un po' di spoiler. Potresti ritrovarti, se dovessi essere eletto a parlamentare regionale, perché si dice che tu sia pronto, ora vediamo se è vero per fare... Voci di corridoio come quelli di prima, dicono che tu saresti pronto a metterti a disposizione della politica, della governance siciliana, candidandoti appunto alle regionali. e potresti eventualmente diventare un deputato di una nuova fase della politica siciliana, come appena ha spiegato il senatore Papania. Ma non ti fa paura tutto ciò? No, paura, no. Un po' di, tra virgolette, ansia, ma collegato a quello che poc'anzi diceva il senatore. Cioè, nel senso, ogni tanto vedo cosa accade in aula, seguo, cerco di seguire qualcosina, cerco di vedere un po' come lavorano attualmente la classe dirigente che c'è per ora in carica e mi rendo conto che su molte cose, per esempio, potremmo fare molto di più, si potrebbe prevedere di fare altro. Mi preoccupa un po', bene o male, finire, ecco, in un contenitore dove magari poi con molta difficoltà le cose, ecco, vengano fatte poi con molta difficoltà. Mi piacerebbe finire in un contenitore insieme ad altri... Non essere uno dei tanti, ma essere protagonista. Essere protagonista insieme ad altri protagonisti per cercare comunque di fare davvero qualcosa di buono e non essere, insomma, fermi come è successo quantomeno in una parte, in buona parte di questa legislatura. Ci proviamo. Senti, ma secondo te la Sicilia, la nostra Sicilia occidentale, la provincia di Trapani, non solo estendiamo il concetto di Sicilia occidentale, un po' come pezzi di Palermo, pezzi di Agrigentino, ma siamo davvero pronti a ragionare come Western Sicili o è solo uno slogan che serve per riempirci la bocca? E' un politico, cosa dovrebbe fare per far attecchire questa identità? E' creare tutte le condizioni per poter farla attecchire. Fino ad ora, come giustamente diceva, ci siamo solo riempiti la bocca di tutto questo, dopodiché manca, a mio avviso, manca la rete, manca una giusta comunicazione, mancano tutta una serie di cose che sono lì, però vanno giustamente portate avanti. L'autorevolezza, forse, come diceva il senatore Papania. Anche, ovvio, ovvio, forse soprattutto. Quindi ci si può lavorare su questo concetto, senatore? Per il territorio, esattamente. Su tutto si può lavorare. Dobbiamo smettere di pensare ognuno però al proprio orticello, vale nella politica come vale soprattutto per le questioni economiche. In Veneto ci riescono, nel nord-est italiano l'ormai da anni che è così, noi continuiamo a ragionare sempre qui a Dinoro in casa nostra. Questo è un po' più difficile, perché noi siamo per concezione anche personale, come dire, affezionati alla roba, affezionati a una concezione araba, individualista della società, della personalità e quindi per conseguenza della politica. A me piace questo abbrivio attuale con il quale ci si è avvicinato alla politica, dove vedo nuovi entusiasmi, nuove passioni, nuova voglia, come dire, in parte come sempre di criticare quelli che ci sono stati e in parte di proporsi come soggetti nuovi. Ci stanno entrambe le cose, poi ognuno magari difende la propria storia personale e collettiva, ma se ha uno sguardo attento ed aperto agli elementi di novità e quindi a capire che il nuovo che avanza non va bloccato, ma gli vanno aperte le porte e bisogna creare le condizioni perché sappiano interpretare meglio la storia, soprattutto la storia del nostro tempo, per esempio per tornare alla cosa iniziale, questa presentazione della candidatura di Spina e dell'elezione di Erice in qualche modo mi hanno, come dire, rinnovato il sorriso, nel senso che ho visto finalmente persone che si impegnano, che ci sono, che ci vogliono stare, ne ho conosciute di nuove, per esempio uno di questi che tra l'altro mi avete presentato voi, questo autore Fideccia che si impegna molto nella politica. Beh, è diventato uno dei primi testimoni della candidatura di Spina. Testimoni, ma anche a me piace anche il modo di approcciarsi alle relazioni e al contesto politico, in modo anche, come dire, ironico, autoironico, capace di sorridere delle difficoltà, di riconoscere che le difficoltà ci sono e comunque di immaginare un percorso politico. Poi percorsi politici non li determiniamo noi, noi ci illudiamo di essere, come dire, il soggetto principale della storia, in realtà non sempre è così, la storia è complessa, un'abile regia non sempre coincide con la presenza di buoni attori, quando hai buoni attori e non hai fuoriclasse comunque ti devi atteggiare in modo tale che lo spettacolo nel suo complesso sia gradevole e però se ce ne sono tante di buona volontà si riesce a fare buona proposta politica. Il Movimento Via, nella lista alle regionali, è intanto collocato nell'ambito della lista del Movimento Nuove Autonomie e questa lista in questo momento si sta provando a costruire insieme anche ai popolari, ad altri movimenti civici e a formazioni politiche più articolate. Se si riuscisse per esempio in questo progetto ci sarebbe una lista alle regionali, intanto le regionali intese come lista di tutta la Sicilia, molto forte, competitiva, con Forza Italia, col PD, con i 5 Stelle, con i grossi movimenti di centro-destra e di centro-sinistra e poi nelle singole province avrebbe un modo di proporsi sostanzialmente diverso. La lista che stiamo provando a costruire in provincia di Trapani è una lista seria, competitiva, fatta di persone giovani. Già sappiamo che abbiamo proposto la candidatura ad Angelo Rocca e a Ignazio Chienetta, altre candidature stanno emergendo sul territorio della Valle del Delice, a Mazzara, a Trapani stesso, a Castelvetrano. Cercheremo di fare una lista che rappresenti il territorio, che sia espressione più evoluta e più moderna della nostra società, è che se intendesse avvalersi della nostra esperienza e cultura politica, noi la dobbiamo mettere a disposizione, ma è chiaro che dobbiamo lasciare a loro, ai candidati, la possibilità di essere competitivi e di poter immaginare di essere autorevoli. In questo mi permetto di dire, lo dico umilmente e sommessamente, ma con consapevolezza, che noi autorevoli lo siamo stati. Chiudiamo, senatore, ci hanno dato 5 minuti, non so se l'avete visti Rocca e senatore Papania. Ritornerei sullo territorio parlando di, appunto, Erice Trapani, ma prima a Marsala. Ma che successe a Marsala con l'amministra Cianagrillo? Chi risponde lì? Il coordinatore di via. Ah no, faccia rispondere a senatore, se la scansano. Ma che successe a Marsala? Chi? Che è successo? Ma che è successo qualcosa? Non me ne sono reso pagare. Perché cosa è cambiato, diciamo, dal post-elezione ad oggi? No, diciamo che a Marsala c'è stata una discussione col sindaco di Marsala in relazione alla necessità che aveva il sindaco di modificare gli assetti della propria giunta e c'è stata una problematica tutta interna al movimento via nella quale il sindaco onestamente c'entra poco perché è chiaro che quando ci sono assetti che si rinnovano e si modificano la tentazione di chi non è al governo della città è quella di andarci la resistenza di chi è al governo della città e non ne vuole uscire è quella di rimanere incollati alle proprie poltrone l'insieme di tutto questo genera dei sommovementi tuttavia negli ultimi giorni c'è stato un aumento dell'interlocuzione col sindaco Grillo e credo che tra il movimento via e il sindaco Grillo si stia arrivando a una conclusione positiva che certamente rafforzerà la giunta questo è il nostro sostegno alla giunta che vorremmo continuare ad esercitare nel rispetto dei ruoli reciproci e nel rafforzamento sia dall'amministrazione ma senza andare a discapito del nostro movimento e nel contempo devo dire che il movimento via Marsala continua a crescere questo è un segnale cioè se a parte il fatto che i consiglieri da 6 diventano 7 poi possono diventare 8 ma non è un fatto numerico è un fatto dell'ampiezza della partecipazione politica all'interno del movimento nel rapporto con la giunta Grillo certo è una cosa molto importante perché Marsala è la città con più abitanti della nostra provincia è quello che politicamente si fa a Marsala ha un riverbero complessivo molto importante però questo ragionamento finale vale forse anche per Erice quello che succederà ad Erice avrà dei riverberi anche sulle elezioni dell'anno prossimo a Trapani senza dubbio questo sarà inevitabile cioè quel che succederà nelle elezioni che a breve ci saranno a Erice determinerà probabilmente anche l'afflusso di competizione elettorale di coalizione e anche di personalità politica che vogliono proporsi e che subito dopo comincerà a proporsi per Trapani città il fatto stesso insomma che si associ non so se ha torto a Regione io penso a Regione però non è che quello che dico io è la verità Tranchina a Toscana lo dice da sé che le coste sono intrecciate e che quindi probabilmente avrà un flusso anche sulle elezioni che ci saranno a Trapani però Erice dovrebbe brillare anche di luce propria della propria identità, della propria presenza la diversità, la fondazione Maioreania tutto quello che c'è di bello la Venere millenaria insomma tutto quello che c'è di bello a Erice Erice potrebbe diventare un faro che illumina il nostro territorio e Trapani dovrebbe riprendere quel ruolo di città capoluogo che probabilmente un po' ha perso non contesto la capacità delle persone di riuscire a fare le cose ma a volte fare le cose non è sufficiente a volte ci vuole anche indurre nei cittadini nelle loro mentalità nelle giovani espressioni della nostra società la capacità di suscitare speranze di evocare sogni questo si è un po' perso e va recuperato Va bene, ripartiremo da lì da queste considerazioni la prossima volta che avremo modo di chiacchierare un pochino Senatore, grazie per essere stato con noi Molte grazie Angelo Rocca me lo prenoto per breve insomma, vediamo di fare una chiacchierata grazie con i temi anche di politica regionale grazie per essere stato anche a te con noi Questa è la prima parte di Res Pubblica non cambiate canale perché abbiamo ancora qualcos'altro da raccontarvi insieme al prossimo ospite Ed eccoci qua con la seconda parte di Res Pubblica Sicilia chiama Europa Cambiamo totalmente argomenti di discussione, di confronto perché ho il piacere di avere in studio Suor Caterina Quattrone che è la superiore provinciale per la Calabria e la Sicilia della congregazione salesiana delle salesiane oblate del Sacro Cuore Suor Caterina, grazie intanto per aver accettato il mio invito e di fare questa chiacchierata qua davanti insomma ai nostri telespettatori Come va? Va bene Intanto ringrazio io lei per aver accolto la richiesta di annunciare questo evento che sarà celebrato qui a Trapani e un convegno nazionale Alos Andiamo proprio nello specifico Suor Caterina, bella diretta ho avuto modo di chiacchierare prima appunto della registrazione è assolutamente una persona concreta, decisa e va dritto al punto Siamo qua anche per presentare innanzitutto in questa prima battuta poi lo faremo in maniera più approfondita nelle settimane a venire questo convegno nazionale Alos che si darà a Trapani dal 22 al 25 aprile prossimi Un convegno importante che celebra diciamo così la figura di Monsignor Giuseppe Cognata che è siciliano beh, una figura importante per il territorio proveremo, lo farà sicuramente Suor Caterina a raccontare perché è importante per il territorio ed è importante appunto per la comunità cattolica certamente in tutta Italia beh, un convegno che doveva tenersi due anni fa per motivi storici diciamo così ma la pandemia ovviamente ha costretto un po' tutti a spostare raccontiamo velocemente la figura di Monsignor Cognata Suor Caterina Va bene, velocemente Giuseppe Cognata nasce ad Agrigento il 14 ottobre del 1885 da un padre avvocato e da un nonno dalla madre agrigentina Rosa Montana e il padre era vabbè, devo dire la sua vita così com'è come vuole lei come vuole lei già, allora tornavo a Reto, va aspetta beccola ma per Dio diciamo che io ormai l'ho capita la storia diciamo che allora il Giuseppe Cognata nasce ad Agrigento il 14 ottobre del 1885 secondo genito di Vitale Cognata e Rosa Montana ha dimostrato fin da bambino una grande ricchezza di doti e di talenti umani il padre benché affiliato alla massoneria su pressione forte della madre una donna di chiesa per gli studi secondari lo inviò insieme ai fratelli presso il collegio salesiano San Basilio di Randazzo che è la prima opera salesiana in Sicilia a Randazzo era superiore Don Pietro Guidazio un religioso che era formato alla scuola di Don Bosco quindi sbocciò nel giovane Peppino una vocazione salda e sicura alla vita salesiana terminati gli studi ginnasiali nell'estate del 1900 con una brillante con un brillante diploma di licenza quando manifestò al padre alla famiglia il proposito di seguire la chiamata alla vita salesiana il papà e il nonno Giuseppe senatore del regno d'Italia che sognavano per lui una brillante carriera gli chiesero di frequentare il liceo al convitto nazionale di Roma prima di partire però Peppino si fece promettere dal padre che dopo un anno di prova lo avrebbe lasciato libero di continuare il liceo presso i salesiani e così avvenne trascorso un anno nella capitale ritornò in Sicilia dove al termine dell'anno scolastico 1992-1993 1902-1903 conseguì la maturità classica presso il liceo Nicola Spedalieri di Catania il 5 maggio del 1908 a San Gregorio di Catania il chierico cognata aveva la gioia di emettere nelle mani del beato Don Michele Rua primo successore di Don Bosco la sua professione religiosa perpetua e che a studi teologici ultimati il 29 agosto del 1909 dal vescovo Monsignor Giovanni Battista Rista oggi venerabile quindi Santi assolutamente veniva ordinato sacerdote io la devo interrompere non per essere scortese ma per essere appunto ok questa è la genesi diciamo della vocazione della vocazione di Monsignor Giuseppe Cognato che per la città di Trapani è importante certamente per la Sicilia per la Calabria ma per la città di Trapani è una figura assolutamente di rilievo perché lui fu il primo direttore proprio dell'istituto salesiano a Trapani la prima guerra mondiale 1915-18 lo riporta soldato in Sicilia a Trapani semplice e umile gregario dell'85esimo reggimento di fanteria quindi prima è stato un semplice soldato militare al ritorno della pace Trapani ed intorni diventano il suo primo campo di fatiche apostoliche fonda e dirige la prima opera salesiana della città via Giovan Battista Fardella innalza un tempio a Maria Auxiliatrice quindi è il fondatore proprio dell'istituto dell'opera salesiana dell'opera salesiana quindi della chiesa di Maria Auxiliatrice e innalza il tempio a Maria Auxiliatrice con i proventi dell'eredità della madre bene questo era per farvi capire l'importanza insomma della figura di Monsignor Giuseppe Cognata e la scelta di tenere appunto questi cinque giorni quattro giorni di convegno appunto nella città di Trapani Sor Caterina è calabrese non si sente tantissimo perché appunto lei va in giro insomma tra la Sicilia e la Calabria anche lei ha una storia che la porta ancora una volta a Trapani perché lei da giovanissima venne affiliata non so se uso i termini propri sono stata mandata sono stata trasferita a Trapani e ho operato qui a Trapani nel lontano 1986 ho lavorato a Trapani esattamente nella zona a 30 piedi nella parrocchia Madonna di Fatima con i francescani ho collaborato a livello pastorale con i francescani nella parrocchia però ho lavorato tanto 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 con i giovani del movimento giovanile salesiano insieme a Don Giuseppe Ilari grande salesiano morto da 10 anni proprio il 25 marzo qualche giorno fa è stato diciamo il decimo anniversario della sua nascita al cielo più che morte certo certo e con lui ho passato gli anni più belli della mia vita perché lui è stato per me un padre spirituale un amico un fratello e mi ha insegnato tanto abbiamo lavorato tanto ad Alcamo e a Marsala con gli oratori salesiani e abbiamo fatto insieme tante scuole di animatori e quindi ero molto più giovane di ora quindi c'era l'ardore c'era la gioventù c'era la forza fisica ma lei da quanti anni è che ha preso i voti? io sono suora da 40 anni da 40 anni sono suora felice suora ho risposto di sì al signore nel lontano 1980 ho lasciato il mio paese Pellaro dove il fondatore ha dato vita praticamente ha lasciato questa terra a Pellaro il 22 luglio del 1972 quindi lei è legata tantissimo sono legata perché praticamente il fondatore è stato nominato vescovo nel lontano 1933 da più a un decimo ed è stato mandato a Bova che era la più povera delle diocesi della regione Calabria l'8 dicembre lui praticamente ad aprile è stato il 23 aprile è stato nominato vescovo a giugno del 33 sempre fa l'ingresso nella sua diocesi l'8 dicembre del 1933 per l'immacolata fonda la congregazione delle Salesiano Oblate del Sacro Cuore il 17 dicembre 1933 le Salesiano Oblate del Sacro Cuore appella a San Giovanni quindi un piccolo borgo in una periferia di Pellaro Centro lì le suore Salesiano Oblate del Sacro Cuore iniziano la loro attività apostolica a servizio della parrocchia e dell'infanzia povera e abbandonata quindi l'asilo ora si chiamano scuole dell'infanzia scuole materne asilo beh mi diceva appunto la sua Caterina dovreste vedere dicevi direttore vai a vedere su internet cosa era Bova nel 1933 e cosa è diventata adesso Bova era una piccola comunità di pastori pastori e contadini con contadini grande povertà non c'era l'istruzione ovviamente diciamo arcaica come comunità e come famiglie oggi Bova invece grazie obiettivamente ai soldi anche spesi raccolti e spesi da Monsignor Cognata è uno dei borghi più belli d'Italia sappiate viene annoverato proprio tra i borghi appunto d'Italia che si contendono poi il primato di Borgo più bello d'Italia in questi giorni quindi questa è la dimostrazione che quando si ha non solo la vocazione ma l'umanità per cercare di volere insomma aiutare il prossimo le cose si possono fare e si fanno bene io lo capisco è legatissima certamente alla figura di Monsignor Cognata però lei è una suora un po' atipica secondo me perché è bella diretta mi piace e carattere sono così per carattere ma serve questo carattere perché poi anche in una congregazione bisogna gestire delle cose le questioni amministrative le questioni sociali quindi se una è troppo remissiva le cose non vanno bene è difficile badare a due regioni Sicilia e Calabria sul Caterina da questo punto di vista? beh è un compito molto delicato perché bisogna mentre prima io avevo da fare con i giovani quindi con loro stavo insieme a loro così per crescerli aiutarli a crescere alla Don Bosco buoni cristiani onesti cittadini io dico prima onesti cittadini perché se sei un onesto cittadino sei anche un buon cristiano e quindi la mia vita è cambiata da due anni perché gestire passi la parola non è più un gestire ma quanto un animare le comunità rendermi conto se le suore stanno bene se le suore vivono bene in quel territorio operano a servizio di quel territorio se la scuola perché noi operiamo nelle scuole dell'infanzia a servizio dell'educazione perché è il sistema preventivo di Don Bosco e poi a servizio delle parrocchie perché il fondatore ci ha voluto per questo motivo noi siamo nate per questo per l'educazione dei fanciulli dei giovani e a servizio delle parrocchie ok nei posti più sperduti e più abbandonati e più poveri dove non operano altre congregazioni religiose certo questo discorso fa riferimento al 1933 quando noi siamo state fondate siamo state fondate con questo obiettivo è cambiata però la figura è cambiata perché i tempi sono cambiati però noi cerchiamo di mantenere il carisma e nel senso che noi non scegliamo certo ma Trapani non è un piccolo centro sperduto ma noi siamo nella periferia di Trapani noi siamo a Fontanelle via Pergolesi numero 2 ok vicino alla chiesa dei rosminiani esattamente siamo a Paceco siamo a Valderice siamo a Dattilo siamo a Chisitta quindi luoghi siamo a Buseto Palizzolo Buseto Palizzolo è la prima missione siciliana fondata dal nostro fondatore addirittura sì 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 quindi il legame con questo terra adesso è per forza fortissimo la congregazione è nata in Calabria perché lui era vescovo di Bova quindi è logico che però poi subito dalla Calabria siamo passati in Sicilia perché man mano che i sacerdoti o i vescovi conoscevano questa fondazione e sapevano che le suore erano a servizio delle parrocchie in stretta collaborazione con i parroci anche questa caratteristica noi lavoriamo in stretta collaborazione con i parroci non siamo non lavoriamo in proprio no e quindi quando i vescovi per quei tempi diciamo che il nostro fondatore è stato un po' diciamo un profeta dei tempi d'oggi perché mentre oggi Papa Francesco dice di amare le periferie e non i grossi centri il nostro fondatore già lo faceva ha voluto e ha amato le periferie senta lei 40 anni che serve le comunità si è sposata con Dio come si vuol dire molto banalmente ma poi non è così mi scusi per la domanda ma quanto è difficile scegliere di diventare una suora suor Caterina mi scusi se sono indiscreto dico però proprio per capire anche perché voi come appunto congregazione del Salesiano Blate del Sacro Cuore rinnovate il vostro voto ogni anno non è una scelta che dura per sempre ogni anno ridecidete di continuare a servire Dio è difficile è una domanda indiscreta no no è una domanda molto molto significativa la sua perché la vocazione è un innamoramento è un innamorarsi di Gesù è Gesù che ti fa sentire il suo amore innanzitutto perché non siamo noi ad amare lui è lui ad amare noi per primi e ti fa sentire questa questa chiamata che ad un certo punto irrompe nella tua vita in un momento che forse manco tu ti rendi conto io se ripenso così un po' alla mia vita dico ma il Signore veramente mi ha mi ha amata perché io la mia vita era una vita molto da ragazza così una ragazza che ha studiato una ragazza che ha lavorato una ragazza che le piaceva tanto girare visitare il mondo avere tante amicizie mi piaceva fumare mi piaceva andare al cinema non fuma più non fuma più eh no da suora no e mi piaceva andare in moto e quindi per quei tempi io sono del 55 è proprio alternativa ecco sono entrata nell'80 quindi i ragazzi di oggi che dicono ah fanno questo fanno quello no non se io ripenso a quello che facevo io anzi dico sono molto più più calmi più bravi e più buoni e quindi la mia vita molto cosa è successo come ha capito che c'era una trassata che voleva percorrere allora io ho capito ho sentito la vocazione come l'ho sentita come un qualcosa che che mi mancava praticamente in che senso io avevo tutto quello che una ragazza per quei tempi siamo ripeto io ho lasciato la mia famiglia il mio paese i miei amici i miei affetti più cari nel lontano 1980 nell'80 io avevo già avevo ero già diplomata ero già iscritta all'università avevo già un lavoro che lavoro faceva? vivevo io ho lavorato presso uno studio commercialista avevo una vita molto libera i miei genitori non mi hanno mai tenuta stretta non erano genitori molto molto severi con me e quindi una vita molto libera poi il fatto di vivere vicino a una città grossa come Reggio Calabria perché Pellaro praticamente è a 5 minuti di distanza da Reggio Calabria 10 km esattamente quindi io andavo a scuola a Reggio e allora lo stare vicino ad una città ti allarga le vedute di più le vedute certo e quindi avevo la macchina guadagnavo già uno stipendio perché lavoravo però ero sempre eternamente insoddisfatta sempre insoddisfatta non mi mancavano gli amici non mi mancavano i corteggiatori non è che è una ragazza normale ok non è che la vocazione è una cosa rara o astratta il signore chiama anche oggi e chiama sempre ora si arriviamo ora si arriviamo perché molte più distrazioni molte più le orecchie sono come devo dire la chiamata arriva ovattata facciamo così magari ovattata e poi si fa più fatica mi scusi la battuta non voglio essere offensivo però forse è meglio che iniziamo a usare perfettamente hai accettato se usa internet forse arriva prima la chiamata del signore bravo ormai con whatsapp cioè non che poi mi scusi sembra non voglio essere offensivo però obiettivamente oggi la tecnologia anche dagli istituti religiosi viene utilizzata per comunicare con i fedeli il whatsapp il facebook vedo diverse tanti anni fa ho avuto ospite in studio il parroco della comunità di crocevia e croce hanno il loro sito dedicato dove si confrontano quindi davvero la chiamata può arrivare tramite ma noi infatti usiamo tanto i social per questo motivo e soprattutto in questi due anni noi li abbiamo usati moltissimo perché i social sono uno strumento oggi come oggi di evangelizzazione potente potente quindi la televisione grazie a voi i giornali di meno però i social in questo momento sfondano attraverso i social le passa il buono e il meno buono quindi anche noi anche noi usiamo i social visto che è arrivato Pino a darci cinque minuti di tempo per la nostra chiacchierata diceva prima anche oggi arriva appunto la chiamata però forse è un po' più avattata cosa è cambiato radicalmente in 40 anni certamente fanno difficoltà c'è un po' la crisi delle vocazioni per le suore per esempio ma la crisi delle vocazioni credo che abbia una sola diciamo chiave di lettura la crisi della famiglia ok è legata alla crisi della famiglia la crisi della vocazione ok non secondo me e secondo anche gli esperti quelli che studiano questo fenomeno se fenomeno si può chiamare è legato alla crisi della famiglia alla scristianizzazione imperante perché c'è sono tempi che cambiano quindi se meno diciamo così si guarda anche agli aspetti religiosi con un occhio meno eh beh un po' disilluso diciamo che una mia colpa dobbiamo anche anche noi tra virgolette perché noi dobbiamo essere i testimoni credibili certo se io ripenso la mia vita e io ho avuto dei testimoni che mi hanno certamente il signore si fa sentire il suo amore verso di te però io ho avuto anche dei testimoni dei modelli da seguire certo altrimenti non lo so ecco dove sarei andata a sbattere e quindi è importante il testimone la credibilità oggi come oggi il religioso il sacerdote il vescovo il papa deve avere una credibilità altrimenti la ragazza i ragazzi dice ma so Caterina com'è sto papa? è un grande papa senza togliere niente a nessuno ma è il papa un pastore innanzitutto il pastore che sente la puzza delle pecore come lui ama dire lui ama dire che i pastori devono sentire la puzza delle pecore non il profumo guarda caso mi piace questa descrizione le faccio un'ultima domanda impertinente ma una sola come guadagna? quanto guadagno io? come? come? no quanto guadagno non mi interessa come guadagno? c'è che avere uno stipendio come funziona? io non ho uno stipendio io ho avuto lo stipendio fino a due anni fa mi sa che dopo questa volta lei non verrà più qua in televisione da me vero? no 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 vengo volentieri ok fino a due anni fa io percepivo uno stipendio perché insegnavo in una scuola statale ma noi emettiamo i tre voti noi diventiamo religiosi perché professiamo i tre voti castità povertà e obbedienza quindi noi non possediamo nulla noi consegniamo la vita a Cristo e alla comunità quindi anche i soldi che noi abbiamo per intanto perché lavoriamo intanto perché abbiamo delle scuole o le mie consorelle hanno le pensioni così sociali oppure se insegnano fuori hanno uno stipendio statale oppure se insegnano nelle scuole materne che sono gestite dalle parrocchie hanno uno stipendio ma noi mettiamo tutto in comune non abbiamo denaro nostro quindi per esempio lei ha un'auto di sua proprietà? no quindi è dell'istituto? no 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 noi non possediamo niente di nostro ok ok tutto quello che noi usiamo è della comunità sia la macchina sia il computer sia magari il cellulare no perché il cellulare soprattutto è una cosa un pochettino più personale legata soprattutto al servizio che tu svolgi perché anche il cellulare sì va bene però si è usato bene cum granosalis è giusto? chiudiamo è stata diceva lei fino agli anni 90 a Trapani dal 1986 al 92 al 92 è ritornata negli ultimi due anni come l'ha trovata cambiata? meglio o peggio? spiritualmente parlando beh io non ho potuto veramente rendermi conto se è cambiata molto Trapani perché intanto perché io non vivo più la parrocchia il servizio alla pastorale parrocchiale in quanto per il compito così che la congregazione mi ha affidato la madre generale madre Graziella Benghini e il suo consiglio generalizio e quindi non posso avere diciamo in mano quelle modalità di paragone di confronto per rendermi conto se è cambiato o no certamente è cambiata Trapani come è cambiato il mondo come è cambiata la società come sono cambiati i giovani la famiglia e tutto perché purtroppo io appena nominata superiore a provinciale dopo un paio di mesi è scoppiata la pandemia quindi non ho potuto incontrare nei parroci nei gruppi nelle parrocchie nei destinatari di tutta la nostra azione educativa e pastorale mi ne do chiudiamo sono momenti è un periodo che prosegue da sin troppo tempo pandemia la prima crisi economica poi la pandemia ora la guerra rincari dappertutto beh c'è molto scoramento ci riesce a dare un po' di serenità a chi ci sta guardando sul Caterina prego ah eh che deve dire è lei è lì una parola di confort e chiudiamo per la guerra no in generale in generale per restare nelle famiglie se sarà sempre se no no va bene chiudiamo così ci soltiamo ma la prossima volta poi tanto ormai mi ha fatto simpatia la vorrò vedere ancora una volta e chiacchierare assieme a lei con i nostri telespettatori sì dovremmo chiacchierare anche perché sicuramente chissà quante strafalcioni ho detto non ce ne sono non ce ne sono non ce ne sono strafalcioni è bastato il silenzio di svolcaterina per capire quanto è difficile anche per una persona che ricopre un ruolo religioso trovare le parole giuste in un momento come questo è difficile trovare la parola giusta anche perché è la prima volta che mi capita di essere in uno studio televisivo sempre monello impertinente effetto tutte difficoltà ci rivediamo con solcaterina perché il 22 aprile ci sarà appunto questo bellissimo convegno sono tre giorni di lavoro è un convegno nazionale dell'ALOS per fare risplendere di una nuova luce la figura di Monsignor Giuseppe Cognata legato a Trapani la città di Trapani è legata a lui certamente fondatore appunto della congregazione salesiana delle salesiane oblate del sacro cuore l'avete sentito insomma l'amore che prova su Caterina per Monsignor Cognata per cui prima di quella data sicuramente me la ruberò qualche altro minutino per chiacchierare molto volentieri a me dispiace per voi che ci state seguendo però ora io vi saluto e mandiamo la siga ma io in altri 10 minuti con su Caterina me ripasso a chiacchierare grazie grazie alla prossima grazie a lei bocca al lupo e auguri per la sua televisione grazie mille grazie mille anche a lei per il suo lavoro grazie questa è stata Res Pubblica Sicilia Chiama Europa alla prossima